che ci abbiamo qua riccardo lorenzo lui riccardo va bene è uguale lorenzo piacere marco che facciamo da dove vieni terracina come prevede questo salto perfetto direi divertente con il mitico mario è la botta di diarrea quindi ok un divertimento se mi vuoi dare le mani in aria lo vuoi fare quando vengo avanti poi sorridi basta divertiti a dove si pensa cazzo dai c'è la figlia generalmente è stato comandante della polizia municipale di corleone quando c'era al costo quando c'era provenzano era comandante non sapeva però di provenzano possiamo conoscere tutti stavano lui ci aveva a casa provenzano stava su quella pianta al ciao 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 how Grazie a tutti. 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 Cazzo. Mamma, una cosa pazzista. Com'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.